Ha avviato il percorso congressuale del Partito Democratico che ci porterà fino all'8 dicembre. Ivan Ferrucci, segretario regionale toscano, qual è la partecipazione che avvertite intorno a questo appuntamento? La partecipazione è buona, siamo nel piano svolgimento dei congressi, in questo fine settimana ci saranno moltissimi e penso che la discussione che in molte realtà si è anche aperta è la dimostrazione di un partito che ha ancora la capacità anche di confrontarsi. Certamente ci sono luci e ombre sulla partecipazione ma comunque complessivamente penso che sia buona la fase che si sta attraversando. Intanto si è aperto il dibattito per la costituzione di una holding per la gestione del sistema aeroportuale Pisa-Firenze. Enac ha espresso la volontà di allungare di altri 400 metri la pista fiorentina e su questo la posizione del PD è molto netta e precisa. Noi siamo chiari su questo, noi abbiamo approvato un PIT a luglio, siamo nella fase delle osservazioni, non capiamo questa nuova posizione dell'Enac dopo che era stata già evidenziata nella fase istruttoria. Il nostro obiettivo è chiaro, un sistema integrato aeroportuale toscano con delle infrastrutture che hanno una dimensione compatibile al territorio e nel caso specifico è chiaro, così come abbiamo detto nel Consiglio regionale, che le infrastrutture di Pisa-Firenze abbiano quella dimensione lì. Viceversa non ne siamo assolutamente d'accordo rispetto alle posizioni che Enac ha espresso perché metterebbe in pericolo lo stesso sistema integrato e la stessa costituzione della holding. Grazie a tutti.